I PONTEFICI Sisto IV Sisto IV, nato Francesco della Rovere, è stato il 212esimo papa della Chiesa Cattolica dal 1471 fino alla morte. Fu un pontefice dalla duplice natura. Da un lato contribuì all'espansione dello Stato Pontificio, alla ricostruzione in senso monumentale di Roma, tra cui spiccano la costruzione della Cappella Sistina, che da lui prende il nome, e la creazione degli archivi vaticani. Ma dall'altro alimentò discordie tra gli stati italiani, al fine di favorire politicamente parenti e amici. È considerato il mandante dietro la congiura dei pazzi ai danni di Giuliano e Lorenzo de' Medici, e fondò l'Inquisizione Spagnola, che avrebbe rappresentato una macchia indelebile per la Chiesa Cattolica. Nacque in Liguria con il nome di Francesco nel 1414, da Lucchina Molleone, appartenente a una famiglia nobile genovese, e Leonardo di Savona della Rovere, considerato il capostipite dell'importante casata della Rovere, il cui stemma era una quercia d'oro su Campo Azzurro. La sua scesa al Soglio Pontificio avvenne 9 agosto 1471, e Francesco della Rovere, a 57 anni, assunse da allora il nome di Sisto IV, in omaggio al Santo del Giorno. Subito dopo la sua incoronazione, in seguito ai tumulti occorsi durante la processione per le strade di Roma, costituì il primo nucleo di milizia pontificia volto alla difesa del Pontefice e la custodia del Palazzo Postolico, destinato a diventare in seguito la Guardia Svizzera Pontificia. Uno dei suoi primi atti da Papa fu quello di sostenere una nuova crociata contro l'impero ottomano, che sotto la guida del sultano Maometto II si stava espandendo pericolosamente verso l'Europa, ma questa fallì miseramente. Favorì la devozione mariana, istituendo l'8 dicembre come festa dell'immacolata concezione della Vergine Maria. La decisione del Papa, però, non fu accettata universalmente, in quanto ai tempi si riteneva quasi un'eresia che la Madonna fosse stata immune dal peccato originale. Inoltre, Papa Sisto IV promosse anche la recita del Rosario, preghiera che verrà elevata a preghiera mariana per eccellenza, oltre alla venerazione della madre della Madonna, Sant'Anna, e del marito, San Giuseppe. Nel 1478, sotto la pressione del re Ferdinando d'Aragona, il Papa firmò la bolla che istituiva l'inquisizione spagnola. All'epoca, la Spagna era divisa in diversi stati e aveva un lungo passato di dominazione musulmana. Fu proprio con il matrimonio tra Ferdinando e Isabella di Castiglia che la penisola iberica iniziò il suo processo di unificazione, e il re spagnolo vedeva nella Santa Inquisizione un'arma politica per liberarsi dei sudditi di religione ebraica e islamica. È noto come Sisto IV, tuttavia, fosse scontento degli eccessi dell'inquisizione spagnola. Il Papa della Rover è ricordato per aver fatto del nepotismo un aspetto preponderante del suo pontificato. Attraverso i suoi fratelli e sorelle ebbe circa quindici nipoti a cui elargì numerosi favori. Fu proprio con Sisto IV, primo rappresentante di spicco della famiglia, che i della Rovera poterono beneficiare dei privilegi conseguenti alla sua elezione al soglio pontificio. Nominò cardinale e poi vescovo suo nipote Giuliano che nel 1503 sarebbe divenuto a sua volta Papa con il nome di Giulio II. Il fratello minore di Giuliano, Giovanni, sposò la figlia del duca di Urbino, Federico da Montefeltro, e la loro discendenza fu sovrana del ducato fino al 1631. Ma fu attraverso suo nipote, Girolamo Riario, che le scelte politiche di Sisto IV macchiarono per sempre la sua immagine. Affamato di potere e desideroso di regnare sulla Romagna, suo zio gli procurò la signoria di Imola e di Forlì e nel 1477 sposò Caterina Sforza, figlia illegittima di Galeazzo Maria Sforza, signore di Milano. Girolamo aveva mire espansionistiche sulla Toscana e fu uno degli organizzatori della congiura dei pazzi, volta ad assassinare Lorenzo e Giuliano De Medici, signore de facto di Firenze. L'attentato fallì, almeno in parte, dato che Giuliano venne assassinato ma Lorenzo riuscì a salvarsi. Seguì da parte di Lorenzo un'opera di vendetta esemplare nei confronti di tutti i congiurati e i due anni di guerra contro Roma e i suoi alleati, dalla quale Sisto IV fu salvato paradossalmente dallo sbarco dei turchi ad Otranto, per cui le diatribe tra i signori italiani si appianarono per coalizzarsi contro il nemico comune. Sisto IV, come detto in precedenza, fu il Papa che per primo agli arbori del Rinascimento promosse interventi edilizzi urbanistici volti a una monumentalizzazione della città di Roma. Commissionò la costruzione del Ponte Sisto, che inaugurato per il giubileo del 1475 doveva facilitare l'accesso a San Pietro dei Pellegrini e soprattutto ordinò l'eliminazione di sporti e balconi dalle strade, facendo rettificare le principali arterie che da Ponte Sant'Angelo si diramavano per la città. La sua opera di restauro colminò con la ricostruzione e la parziale decorazione della Cappella Palatina, che in seguito a questi lavori acquisì il nome che la rese celebre nel mondo, la Cappella Sistina. L'opera sancì anche la pace definitiva tra lo Stato Pontificio e Firenze, in quanto Lorenzo De Medici, altro umanista e mecenate delle arti, mandò a Roma artisti come Sandro Botticelli e il Ghirlandaio per contribuire al ciclo di decorazioni affresche della Cappella. Sisto IV morì il 12 agosto 1484 dopo 13 anni di pontificato in seguito a una forte febbre. Il suo monumento funebre, Opera del Pollaiolo, è una pregevole opera bronzea che rappresenta la figura addormiente del Papa con ai lati dei pannelli in basso rilievo raffiguranti figure femminili allegoriche delle arti liberali classiche con l'aggiunta di pittura e teologia. Ogni figura incorpora il disegno di una quercia, simbolo della famiglia della rovere. La sua tomba, posta inizialmente in una cappella dedicata nell'antica Basilica di San Pietro, si trova attualmente nelle Grotte Vaticane.